Tutta colpa di una invertita e così Cesari diventa caseari e il celebre imperatore si ritrova un formaggiaio. È lo strafalcione in latino, inciso su pietra, nella pavimentazione della nuova passeggiata fronte mare lungo via 29 Settembre ad Ancona. Doveva essere un omaggio a Traiano che ha contribuito all'espansione del porto, ma lo scalpellino ha inciampato sul latino e quell'iscrizione che riprende quella sull'arco dedicato all'imperatore ora impazza sui social come uno sfottò strappando risate. Ma quello su Cesari non è l'unico errore nell'iscrizione, eccone qua un altro, Divi, Nerva e Figlio, con la E usata come congiunzione al posto del genitivo. Una doppia svista che se da un lato ha scatenato l'ironia degli anconetani, dall'altro non ha mancato di creare un certo imbarazzo nell'amministrazione che subito è corsa il pari per tamponare lo scivolone. Paga chi ha sbagliato, voglio dire, l'impresa si è resa disponibile nella disinstallazione, nella ristallazione della nuova dicitura. Senza costi, se non quello di aver un pochettino reso zuppicante l'immagine del servizio. E per archiviare la brutta figura, aspettando che venga posizionata l'iscrizione corretta, il Comune intanto ha optato per delle anonime lastre bianche. Nessun rischio per l'inaugurazione del nuovo boulevard. Dopo quattro anni di cantieri sarà pronto con una nuova pavimentazione, nuove balaustre, in tempo per la Fiera di San Ciriaco. Il primo maggio noi avremo tutta la passeggiata, abbiamo da completare il secondo lotto che è la parte verso il Mandracchio e l'apriremo tutta da qua fino là. Speriamo che costituisca veramente un momento di valorizzazione del rapporto tra la città storica ed il porto.